Siamo una classe dell'Istituto Tecnico Economico Bramante Genga e questa è la nostra idea per il progetto FEDUF. Proponiamo un nuovo modello di calzatura unico nel suo genere. La nostra scarpa infatti ha una scuola intercambiabile che le permette di essere utilizzate in situazioni differenti ma con lo stesso risultato di una scarpa specifica. Grazie all'intercambiabilità della scuola è possibile utilizzare la scarpa sia per fare trekking che per fare un aperitivo in centro città. Questa idea è nata dalla nostra voglia di praticare attività sportive. Poiché siamo una classe quasi interamente maschile, il nostro interesse era quello di giocare a calcio all'aperto con l'approvazione del professore durante le ore di educazione fisica. In questi momenti dovevamo portare due paia diverse di scarpe, uno per fare attività in palestra e un altro per giocare all'aperto. Proprio in queste occasioni abbiamo sentito il bisogno di una scarpa che si potesse utilizzare in tutti e due gli ambiti. Abbiamo realizzato dei appositi sondaggi per poter capire se la nostra idea avrebbe avuto successo e abbiamo riscontrato interesse per il nostro progetto. Il passo successivo è stato decidere il tipo di produzione da adottare. La nostra scelta è ricaduta su una produzione outsourcing e sull'utilizzo di materiali ecologici come la canapa, il sughero e il caociu. Perché ridurre l'impatto ambientale è una cosa che noi tutti volevamo. Per la definizione degli aspetti pratici riguardanti la calzatura e la scarpa, ci siamo confrontati con un imprenditore del territorio che ci ha consigliato alcune strategie e chiarito alcuni dubbi, una specie di angelo questone. Vogliamo che tutti siano in movimento, come e quando vogliono, per star meglio con se stessi e con gli altri. Dal mare alla montagna in un solo passo, creando valore. Questa è la nostra mission.